Non ce l'ha fatta la donna che, insieme al marito, viaggiava a bordo della Smart, coinvolta nel grave incidente che venerdì sera si è consumato sulla strada che collega Cutrofiano a Corigliano, all'altezza di un incrocio interpoderale che conduce a Sogliano. Anna Orlando, sessantenne di Cutrofiano, ispirata al Fazzi, dopo aver lottato per un giorno intero tra la vita e la morte. Restano critiche intanto le condizioni del marito, sessantenne anche lui, ricoverato in rianimazione a Lecce. I due coniugi, molto conosciuti e stimati in paese perché titolari di una scuola di ballo, hanno subito diversi interventi chirurgici. Un'intera comunità, sin da subito, si è stretta intorno ai familiari. Percorrendo la stradina Teatro dell'Incidente, la coppia venerdì sera stava raggiungendo un locale per festeggiare un compleanno in compagnia di amici. In direzione opposta stava sopraggiungendo un Audi condotta da un ragazzo di 30 anni, anche lui del posto. L'impatto è stato quasi frontale e violentissimo. La Smart ha innescato una giravolta che ha sbalzato dall'abitacolo la sessantenne, che è andata a sbattere contro il parabrezza di un'altra auto, una Fiat Punto che seguiva e che non è riuscita ad evitare lo scontro. Il corpo della donna è finito per terra ad una ventina di metri dalle auto sull'asfalto. Subito le sue condizioni sono a parte gravissime. Il marito è rimasto bloccato nella Smart con fratture alle gambe e gravissimi traumi interni. Meno gravi le condizioni dei conducenti degli altri mezzi, per tutti si è reso necessario il trasporto a sirene spiegate in ambulanza agli ospedali di Lecce, Scorrano, Galatine e Copertino. Resta da accertare l'esatta dinamica del sinistro. I rilievi sono affidati ai carabinieri della compagnia di Gallipoli. Sul posto anche la polizia locale di Cutorofiano e i vigili del fuoco. I mezzi coinvolti nel sinistro sono stati sequestrati.